Ciao a tutti quanti, oggi sono qui con un nuovo video, un video molto carino che appunto vi propongo, è appunto tipi di persone al cinema. La prima categoria di persone che noi possiamo incontrare quando andiamo al cinema con gli amici sono appunto quelli che mangiano, nel senso mangiano pop corn, potatine, coca cola, caramelle, il panino portato da casa, tutto, qualsiasi cosa loro mangiano. In questa categoria possiamo suddividerla in altre due categorie. Ovvero, quelli che mangiano i primi dieci minuti perché hanno finito il pop corn e li hanno consumati solo guardando i trailer, mentre quegli altri che costudiscono il loro cibo gelosamente e cominciano a mangiare da metà al film o se gli va bene verso la fine del film. Una seconda categoria che noi possiamo incontrare, ed è molto frequente, sono quelli che danno i calci al tuo sedile. E non aggiungo nient'altro. Una terza categoria sono i rumorosi. Possono essere vecchi, bambini, giovani, non hanno età, però in ogni cinema, in ogni film, a ogni ora, ci sono sempre loro. Ci sono quelli che tostiscono, quelli che cercano, che scartano le caramelle dall'inizio alla fine del film, e la cosa a causa di più ci sono quelli che cercano cose nella borsa per tutto il tempo senza mai trovarle. Secondo me lo fanno apposta. Una quarta categoria è il fan club delle ragazzine urlanti. Il rischio di incontrarle è alto quando si va a vedere un film, ad esempio, con Robert Pattinson, perché, vabbè, non lo conoscesse, è il vampiro Edward Cullen della saga di Twilight. Ecco, vado a vedere un film con Robert Pattinson, e molto probabilmente, anzi, sicuramente, nella sala con voi ci saranno ragazzine urlanti che urleranno per i primi 10 minuti o 20 minuti, in cui ci saranno le prime 10 apparizioni della loro crush preferita sullo schermo. Oppure, quando ci sono scene dove si baciano i... La luce fa come cazzo gli pare. Dove, scene spinte, dove loro si baciano, ecco, ci sono questi fan club di ragazzine urlanti che si dimenano come se avessero gli ormoni a mille. Cioè... Bene, il video è finito. Se vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su qua sotto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Inoltre, qua sotto nei commenti, scrivetemi che tipo di persone siete voi quando andate al cinema. Oppure, se siete dei tipi che io, per esempio, non ho elencato nel video. Io vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video.